Ciao a tutti amici di Vanilla. Quando si parla di nazismo si rischia di raccontare una storia monocorde, vedendo tutti i tedeschi come convinti sostenitori del Terzo Reich, senza neanche il barlume di un'opposizione. Se è vero che in dittatura tutte le opposizioni sono ridotte al silenzio, è vero sia per le dittature fasciste sia per quelle comuniste, come nel caso di Stalin e Mao, sotto il cancellierato di Adolf Hitler ci furono diversi casi di ribelli, persone che si misero contro la dittatura nazista e che tentarono di ribaltare le sorti di quella che loro vedevano come una catastrofe annunciata. Una di queste storie è quella di Helmut Hübener, giovanissimo dissidente condannato da una macchina giudiziaria atroce, se possiamo chiamarla giudiziaria, ucciso per il suo mettersi contro. Il dissenso è entrato a far parte anche della cultura ultrapop. Nel film Avengers del 2012, a un certo punto Loki, aspirante dittatore della Terra, attacca Stoccarda uccidendo un sacco di gente. Tra l'altro Stoccarda è una città certamente scelta, non a caso. Quando chiede una folla di inginocchiarsi, tutti si abbassano, minacciati dal dio di Asgard. Loki dice, voi siete nati per essere governati, alla fine vi inginocchierete, sempre. Ma un uomo anziano si alza e risponde, non davanti a uomini come te. Loki controbatte, non esistono uomini come me e lui, esistono sempre uomini come te. Poi Loki capisce, ammette la sconfitta dialettica e dice, la voce saggia del popolo, che lui sia ad esempio. Va per ammazzarlo, ma arrivano Capitano America e Iron Man che lo salvano e continuano calci e pugni in stile Avengers. Nella realtà, purtroppo, gli uomini come Loki sono sempre esistiti, ma i Captain America o Iron Man esistono soltanto nei fumetti della Marvel e i ribelli sono finiti quasi sempre ammazzati. Nel 1941 Helmut Hübener ha solo 16 anni, ma ha già capito quello che milioni di tedeschi si rifiutano di vedere, o fingono di non vedere. Il nazismo e il suo fondatore, Adolf Hitler, sono un grande imbroglio che porterà la Germania alla rovina. Helmut, così giovane eppure tanto lucido nella sua analisi politica, decide che suo dovere far aprire gli occhi al popolo tedesco rivelare una verità scomoda, un impegno che pagherà con la vita. Non è poi molto diverso dai suoi coetanei Helmut Hübener, che vive ad Hamburgo con la sua famiglia. Gente normale, che non si interessa di politica, solo il patrigno manifesta una certa simpatia per il nazismo, e appartiene alla chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in parole povere, a chiesa mormone. Il piccolo Helmut frequenta quindi le funzioni religiose ed è un entusiasta membro dei Boy Scout, organizzazione sciolta nella Germania nazista nel 1935, quando Helmut ha dieci anni. Non c'è problema, il bambino entra a far parte della gioventù hitleriana, come era praticamente d'obbligo, ma non per questo smette di pensare con la sua testa. Quando il fiorfiore dei ragazzi tedeschi, uniti nella Hitlerjugend, partecipano attivamente alla famigerata Notte dei Cristalli nel 1938, lui si dissocia apertamente ed esce dall'organizzazione. Ha solo tredici anni e molto, molto più coraggio di tanti adulti incapaci di reagire all'orrore che sta avanzando. Intanto, anche la chiesa alla quale appartiene da sempre la sua famiglia si incammina verso l'adesione al nazismo, più che altro per evitare probabili persecuzioni. La cosa che più disturba Helmut è il divieto fatto agli ebrei di partecipare alle funzioni religiose, divieto imposto da uno dei capi della sua congregazione, uno dei soli sette filonanzisti tra i circa duemila morboni di Hamburgo. Il ragazzo continua a frequentare la chiesa, ma non senza mettere in discussione quella scelta per lui tanto sbagliata. Nel 1941 Helmut finisce la scuola media e viene inserito in un programma di tirocinio negli uffici dell'autorità sociale di Hamburgo. Si fa nuovi amici fra gli altri apprendisti e si accorge di non essere il solo a nutrire molti dubbi sulla piega presa dalla Germania governata dai nazisti, a modo di ascoltare le trasmissioni di qualche radio nemica, se così vogliamo definirla, e si rende conto che le promesse di Hitler sono solo una colossale bugia. La radio era un grande mezzo di propaganda per i nazisti, che diffondevano notizie false sull'andamento della guerra e sul glorioso futuro della Germania. Difficile farsi un'idea chiara della situazione reale, visto che era severamente vietato ascoltare le trasmissioni di radio non direttamente legate al regime, un reato punibile con la morte. Dall'estate del 1941 Helmut riesce ad ascoltare con regolarità le notizie trasmesse dalla BBC radio inglese, perché ha accesso a una radio a un decorte nascosta dal fratellastro a casa dei nonni. Quello che sente lo sconvolge. La Germania nazista è un paese completamente diverso da quello rappresentato dal Terzo Reich. Nessuna vittoria tedesca è imminente, anzi, il paese si avvia verso la catastrofe. Helmut, che coinvolge tre amici, decide di diffondere queste notizie fra quante più persone possibile. Scrive e distribuisce dei volantini, che lascia dovunque, nelle cabine del telefono, nelle cassette della posta, nelle baccheche e perfino nelle tasche di cappotti appesi nei locali pubblici. Svela le bugie del nazismo sulla presunta debolezza del nemico, sulle false vittorie nei vari fronti di guerra. Il Führer vi ha promesso che il 1942 sarà decisivo e questa volta non si fermerà davanti a nulla per mantenere la sua promessa. Vi manderà a migliaia nel fuoco della guerra per finire il crimine che ha iniziato. A migliaia, le vostre mogli e i vostri figli diventeranno vedove e orfani, e per niente. Esorte tedesche ad aprire gli occhi sulla violenza del regime, sul terrore su cui fonda il suo potere. Ragazzi tedeschi, conoscete il paese senza libertà, il paese del terrore, della tirannia? Sì, lo conoscete bene, ma avete paura di parlarne. Vi hanno intimidito a tal punto che non osate parlare per paura delle rappresaglie. Sia i ragioni alla Germania e la Germania, Hitler, attraverso le loro tattiche di terrore senza scrupoli contro giovani e anziani, uomini e donne, sono riusciti a farvi diventare burattivi senza spina dorsale per seguire i loro ordini. Il 5 febbraio del 1942 un impiegato dell'autorità sociale di Hamburgo, fedele membro del partito nazista, vede Helmut scrivere uno dei suoi volantini e lo denuncia. Helmut Hubener è dunque un traditore e come tale viene processato dal Tribunale Speciale del Popolo e condannato a morte. È minorenne, ma questo non impedisce ai nazisti di procedere come se fosse un adulto. Il crimine di cui è accusato tradimento è talmente grave da giustificare nella mentalità nazista la pena capitale, nonostante la sua giovane età. Per sostenere la plausibilità di quella condanna, la Corte riconosce a Helmut un'intelligenza superiore alla media, un'insolita cultura politica per un ragazzo della sua età, oltre a evidenziare un atteggiamento di scontro verso i giudici, tenuto dal ragazzo probabilmente per assumere l'intera responsabilità su di sé ed evitare condanne pesanti ai suoi tre compagni, come di fatto avviene, poi i tre si salvano. Quando i giudici, dopo aver letto la sentenza, gli chiedono se ha nulla da dire, lui risponde, ora devo morire, anche se non ho commesso alcun crimine. Quindi ora tocca a me, ma verrà il vostro turno. Il 17 ottobre del 1942, alle ore 20 e 13, Helmut Hubener, a 17 anni, viene decapitato nella prigione di Plotzenzie a Berlino. È il più giovane condannato a morte nella storia del Terzo Reich.